anali di zarubi libro quarto pagina sacra capitolo tredicesimo scrivendo mi accorgo di come le vicende della vita si allaccino fra loro in un intrico che superficialmente sembra indissolubile caotico e insensato ma che a un'attenta osservazione svela come le complesse involuzioni delle miniature di clemens una sapiente geometria e un delicato equilibrio così da lasciarci stupefatti increduli in sospeso fra la tentazione di credere che tutto abbia un razionale previdente senso e quella di arrenderci di fronte al mistero delle cose della vita forse le coincidenze le sincronie sono figlie solo dei nostri occhi e della nostra sensibilità così tante cose accadono ogni giorno così tante ci passano davanti agli occhi e ci parlano agli orecchi che inevitabilmente alcune di esse si scoprono prossime e amiche e ci convinciamo che la ragione del loro accadere una vicina all'altra non sia una casualità ma frutto di una precisa per quanto misteriosa volontà mi avvio a questa delicata riflessione pensando che quando quei cavalieri misero in moto la successione di fatterelli che mi condussero a quella notte a quelle confidenze con ada io ancora non avevo alcun contatto con voi e credevo di scriverne a vostro padre che invece giaceva già freddo nella tomba eppure di quelle cose di cui cantarono i cavalieri e di cui poi lungamente parlamo io e ada voi siete ben informata perché sono nate tramite il vostro ceppo fu vostra bisnonna maria infatti a proteggere andrea cappellano l'autore del de amore e fu cretien de troua che scrisse l'erec e su sua esplicita richiesta il cavaliere della carretta che da qualche parte mi è capitato di citare si tratta solo di fatti curiosi o piuttosto di segni che una mano discreta e provvida distribuisce qua e là per accennarci un sentiero io li voglio prendere in tal senso ed è questa la ragione per cui ho deciso di fidarmi ciecamente di voi e affidarmi alla vostra pietà come l'ancillotto in balia di ginevra a causa del suo amore folle così io sono in valia vostra in virtù delle mie confessioni e sebbene non possa amarvi di fin amor perché non sono cavaliere ma solo sergente sappiate signora che non mi addormento mai senza avervi più volte ricordata e ringraziata e avere pregato per voi